Buongiorno e benvenuti da Borsale Strumenti Musicali. Oggi vi presentiamo questo bellissimo flauto usato della ditta Tomasi. Tomasi è un costruttore austriaco che fa veramente dei flauti straordinari. Soprattutto meccanicamente sembrano dei flauti di altissimo livello costruttivo, non balla una chiave, hanno un disegno della meccanica moderno, lineare e molto accattivante. testata in argento, corpo in alpacca argentato e boccola in legno. Si tratta di uno strumento, in questo caso fuori aperti, discendente al do, ma in questo momento ci ho inserito i tappini in metallo che sono in dotazione con questo strumento. Sinceramente un flauto veramente interessante da moltissimi punti di vista. Adesso vi faccio sentire il suono, ma mi ha colpito veramente tanto ed è un flauto in condizioni veramente perfette, esattamente come nuovo. Come potete notare è un flauto che non ha assolutamente suonato. E' un flauto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.